Continua in Sicilia l'attenzione da parte dell'opposizione nella fattispecie del Partito Democratico nei confronti del bonus edilizio. Il blocco della cessione dei crediti legata ai bonus edilizi rischia di portare al fallimento centinaia di imprese facendo collassare l'intero comparto edilizio siciliano. La Regione ha il dovere di intervenire procedendo all'acquisto dei crediti d'imposta detenuti dalle banche a seguito di cessione operate dagli operatori economici o dai cittadini e la compensazione con i propri debiti fiscali. La proposta è stata avanzata da Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, che sull'argomento ha già depositato un disegno di legge firmato da tutti i parlamentari del gruppo. È necessario sostenere le imprese siciliane che in questi anni, grazie agli incentivi, hanno ridato fiato al comparto dell'edilizia con centinaia di nuovi posti di lavoro e adesso si scontrano con un sistema creditizio che in Sicilia, a differenza di altre aree del Paese, ha minori capacità finanziarie per rispondere velocemente all'enorme bisogno delle imprese di monetizzare gli incenti investimenti approntati, ha concluso Catanzaro.